Scapperò un po' la connessione, mi sa, ragazzi, qua, perché c'è la luce, la luce. No, ho sovato apportamento a casa. No, andiamo, andiamo, andiamo. Scusate, ragazzi, ciao. No, mate! Ah, sta dormendo, aspetta che... Dario, si va a letto! Aspetta, ok. Poi posso morire qua sopra. Negrita si chiama adesso. Ah, non lo sapevo. Oddio! Oh, no! È andata. Mi fa vedere no. Ah, ecco perché si trompa un po' male. La noise reduction. L'ho levato adesso, ragazzi. Non ci vuole, non ci vuole. Ecco perché occassano. Allo.